200 metri esatti ora lo stacco della macchina per ora lievemente arretrato con il 5 Nando Fonte che però va adesso vicino a rete anch'esso con cautela Narzis Lady e Omero Griffo ai numeri più bassi lo stacco della macchina vede emergere Olly Robb e Oceano Delite nei confronti di Nevera all'esterno Nando Fonte e New Hop c'è Lotta nei primi 200 metri addirittura in 13 secco con Oceano Delite che è ora in curva perfezione al sorpasso nei confronti di Olly Robb all'esterno punti in avanti Nando Fonte quindi New Hop e Nevera che sta ripiegando il primo quarto volato in 28 e 3 con Nando Fonte deciso all'attacco di Oceano Delite c'è il via libera per l'allievo di Lucio Becchetti che però ha speso molto per essere dove sta adesso e va a completare i 600 metri iniziali addirittura in 42 e poco più Oceano Delite, Olly Robb, New Hop, Nevera, Narzis Lady in fila indiana dietro al leader dall'ultima posizione prova a risalire all'esterno Omero Griffo nel frattempo la metà gara è in 57 per Nando Fonte si viaggia su ritmi proibitivi sul piede dell'1 e 12 scarso e andiamo a vedere ora il riferimento per il primo chilometro con Nando Fonte che continua a non lesinare andatura 1 e 12 il chilometro di Nando Fonte seguito sempre da Oceano Delite, Olly Robb, New Hop, Nevera, Omero Griff che generosamente cerca di risalire all'esterno avendo nella scia Narzis Lady ma il ritmo imposto dal battistrada fa sì che non ci siano variazioni di rilievo ancora una frazione in 14 per Nando Fonte seguito da Oceano Delite, Olly Robb accenna a spostare dalla quarta posizione New Hop quando siamo ormai a 250 metri dalla conclusione Nando Fonte che affronta al comando la retta d'arrivo nei confronti di Oceano Delite, Oceano Fonte ancora in chiara evidenza su Oceano Delite più indietro Olly Robb, Oceano Fonte che si distende alla corda nei confronti di Oceano Delite che ci prova all'esterno, Nando Fonte però è ancora in chiara evidenza nel finale controlla e vince davanti a Oceano Delite con New Hop al terzo posto 5-6-4, l'arrivo ufficioso sul mio cronometro 1-57-8 per Nando Fonte e Lucio Becchetti passati a condurre dopo mezzo giro come giustamente mi segnala l'amico Luigi Migliaccio per ora è ovviamente il record della pista quello siglato da Nando Fonte all'undicesima corsa che viene disputata sulla pista di trotto di Capannelle 1-58 scarso sul mio cronometro quindi si è viaggiati sul piede dell'1-13-7 una vittoria netta per Nando Fonte grazie a tutti Grazie a tutti